Sciacca Vista da Noi Winter Edition è la collettiva fotografica dei soci dell'Associazione L'Altra Sciacca dedicata alla città che sarà possibile visitare a partire da oggi e per tutto il periodo delle festività all'interno della Sala Blasco del Palazzo Municipale. Si tratta di un'iniziativa finanziata nell'ambito del secondo avviso pubblico di democrazia partecipata per l'anno 2023. Sciacca Vista da Noi è stata per dieci anni consecutivi, fino al 2017, una delle iniziative estive di punta dell'Altra Sciacca lasciando poi spazio ad una versione virtuale dell'iniziativa sui relativi account social. Adesso torna in una versione invernale e le foto esposte rimarranno a disposizione del Comune di Sciacca che le potrà utilizzare per futuri eventi di promozione della città. Una particolare sezione della mostra sarà dedicata alla commemorazione del Dixmude in occasione delle celebrazioni del centenario della tragedia. Ci saranno dieci illustrazioni realizzate dalla giovane Federica Crisafi componente dell'Associazione e già autrice della mostra Sciacca Vista da Frida. Tale allestimento racconterà la storia del Dixmude e del grande spirito di solidarietà mostrato dalla popolazione saccense in quell'occasione con gli occhi di Frida, il personaggio inventato dalla giovane illustratrice che ama raccontare la sua città. Le illustrazioni saranno utilizzate a partire da gennaio 2024 anche per dei laboratori didattici sulla storia del Dixmude che la stessa associazione e l'altra Sciacca porterà nelle scuole della città. La mostra Sciacca Vista da Noi Winter Edition resterà in esposizione fino al 6 gennaio negli orari di apertura e fruibilità dell'atrio superiore del comune di Sciacca. L'iniziativa vede il patrocino dell'amministrazione comunale che ha dato il supporto organizzativo mettendo a disposizione i locali comunali. Grazie a tutti.